Era discriminatorio il demansionamento di un capotreno donna a causa della sua altezza. Un nuovo principio giurisprudenziale destinato a fare scuola in Italia grazie alla battaglia giudiziaria intrapresa dalla consigliera di parità regionale che ha sostenuto la dipendente di una società di trasporto pugliese. Nel 2011 vinse il concorso ma dopo nove mesi di prova a quattro giorni dall'assunzione fu retrocessa ad operatrice di macchina, il ruolo svolto in precedenza, tutta colpa dei 5 centimetri meno rilevati nella visita medica rispetto all'altezza 1,60 m prevista in modo indistinto tra uomo e donna nel decreto statale in materia. La società lo ha richiamato in giudizio per giustificare la retrocessione ma in primo e secondo grado è stata sbugiardata dei giudici che hanno invece accolto la tesi dell'ufficio di parità ovvero che statisticamente gli uomini sono più alti in media e che il decreto mascherava una discriminazione indiretta. Il limite di altezza non può essere più la possibilità di esonerare una donna dal suo posto di lavoro. Per l'ufficio una delle tante battaglie vinte in favore delle donne, un centinaio quelle che nel 2014 si sono rivolte in casi di molestie sessuali, licenziamenti ingiustificati, maltrattamenti, attività impossibili da continuare a sostenere dopo il taglio draconiano della regione Puglia da oltre 100 mila euro che ha azzerato le casse dell'ufficio di parità.